quasi tutte le azioni ad alto dividendo sono rischiose ma effettivamente alcune possono esserlo anche di più di altre ci sono alcune occasioni però in cui aziende buone hanno un tale calo del valore delle adorazioni che ci si ritrova per periodi di tempo magari ristretti in un contesto economico particolare ad avere un alto dividendo che può essere colto al volo oggi ti parlo di tre aziende che possono trovarsi in questo contesto o che possono essere a mio parere personale e ripeto solo mio personale in una condizione di rischio minore rispetto ad altre aziende ad alto dividendo e ti dirò ho qualcosa anche in portafoglio di queste aziende tutte al momento con un dividendo al di sopra del 10 per cento ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio come sempre sono pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario AIF è l'autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi libro del quale puoi trovare il link qui sotto nella descrizione nel caso tu lo volessi acquistare lo ti vado a parlare della mia personalissima esperienza da addebitato seriale di investitore e risparmiatore incallito ci sono stati diversi periodi di crisi in diversi periodi storici ed una cosa molto importante che ha aiutato gli investitori a percepire meno le perdite o comunque in modo meno marcato è proprio stato il fatto che periodicamente arrivava l'accredito delle cedole o dei dividendi ovviamente non tutte le aziende sono uguali e per cui ti presento le mie tre scelte per aziende ad alto dividendo che a mio parere sono meno rischiose o un po più sottovalutate di altre ricordo ovviamente che sono solo valutazioni personali e per forza non consigli per gli acquisti partiamo dalla prima che è AGNC la prima macchina di dividendi è un mortgage REITS AGNC se vi ricordate lo ho in portafoglio perché ci sto facendo una strategia in opzioni dove posseggo le quote incasso il dividendo e vendo anche call incassando i premi la società distribuisce dividendi mensili con un rendimento sbalorditivo superiore al 18% per il contesto l'azienda ha registrato un rendimento medio a due cifre in tutti gli ultimi 13 anni tranne uno ne abbiamo già parlato ma giusto per fare un refresh i mortgage REIT o REIT ipotecari come si potrebbero definire in italiano vogliono prendere in prestito denaro al tasso di prestito a breve termine più basso possibile acquistare attività a rendimento più elevato come i titoli garantiti da ipoteca con questo capitale che hanno preso in prestito il problema degli ultimi tempi è stata la politica monetaria storicamente aggressiva della federal reserve volta addomare l'inflazione galoppante che c'è in questo periodo il rapid aumento dei tassi di interesse ha rapidamente spinto verso l'alto gli oneri finanziari a breve termine quando questo è accoppiato con una curva di rendimenti invertita sia il margine di interesse netto che il valore contabile sono oggi muniti per la GNC ciò significa approfitti a breve termine più bassi un prezzo delle azioni più basso dato che la maggior parte dei diritti ipotecari mortgage REIT rimane vicino ai rispettivi valori contabili ma potrebbe esserci una luce alla fine del tunnel sebbene i tassi di interesse più elevati stiano spingendo verso l'alto i costi di finanziamento a breve termine aumenteranno anche i rendimenti dei titoli garantiti da ipoteca che a GNC continua ad acquistare nel tempo questa potrebbe essere una ricetta per l'espansione del margine di interesse netto inoltre a GNC gestisce un portafoglio di investimenti quasi incredibilmente sicuro tutti tranne 1,7 miliardi del suo portafoglio di investimenti che equivale a circa 61,5 miliardi di dollari sono in attività cosiddette di agenzia un'attività di agenzia è garantita dal governo federale in caso di inadempimento del titolo sottostante questa protezione aggiuntiva consente ad a GNC di utilizzare la leva per aumentare il proprio potenziale di profitto la seconda azienda è mpw medical property trust quest'anno il mercato ribassista ha fatto crollare il valore delle azioni di medical property trust crollando anche fino a meno 45 per cento in parte a causa anche dell'impatto che l'aumento dei tassi di interesse poteva avere sulla sua capacità di espansione il sell off ha portato il rendimento da dividendi di questo fondo riz specializzato nel care a raggiungere uno yield superare al 10 per cento in un certo contesto storico anche se in questo momento credo che sia risceso all'otto per cento e infatti in realtà proprio negli ultimi giorni con un picco che hanno avuto le azioni un po di tutti i comparti economici siamo scesi al di sotto di questo valore ma ci ritornerà a breve secondo me un rendimento da dividendi a due cifre di solito segnala che il mercato non crede che sia sostenibile tuttavia i risultati finanziari del rito in questione sanitario suggeriscono che è più che sufficientemente sano da sostenere il suo dividendo all'altissimo rendimento per questo motivo sembra un'opzione allettante per coloro che cercano un flusso di reddito passivo di grandi dimensioni sebbene il titolo sia stato sotto pressione quest'anno l'attività successante continua comunque a funzionare bene anche se si è perso uno dei più grandi effettuali che aveva come cliente ciò è evidente nei risultati del terzo semestre il rito ha riportato 0,36 centesimi di adjusted FFO con un aumento del 6 per cento anno su anno ciò ha spinto il suo totale da inizio anno a 1,08 dollari per azione un aumento del 7 per cento anno su anno la società ha anche beneficiato delle acquisizioni completate nell'ultimo anno e dall'aumento dei canoni di locazione molti dei suoi contratti di locazione sono caratterizzati da escalation degli affitti legati all'inflazione con l'inflazione in un aumento gli affitti stanno aumentando più rapidamente dal ritmo storico vede infatti i cresciti sui affitti dal 4 al 5 per cento nel prossimo anno il che dovrebbe aumentare ultimamente il suo funds from operations l'FFO medical property trust ha anche un bilancio sano ha chiuso il periodo con un rapporto di leva finanziaria di 5.8 che è solido per un RIT la società ha principalmente un debito a tasso fisso a lungo termine il 91 per cento dei suoi 9,5 miliardi di debito ha un tasso fisso con scadenze a breve termine limitate solo il 4,7 per il suo debito scade l'anno prossimo e un altro 8,1 per cento nel 2024 questa struttura del capitale aiuta isolarlo dall'impatto dell'aumento dei tassi di inferesse ancora non ho azione di mpw nel portafoglio ma intendo aggiungere proprio nel mese di novembre alcune quote di questa azienda in quanto voglio cominciare come per la gnc la stessa strategia in opzioni sempre incassando i dividendi e premi dovuti alla vendita delle opzioni call questo perché sono due aziende che vorrei tenere per il lungo periodo. In ultimo con un altro RIT, ABR, Arbor Realty Trust, concludiamo con un altro Mortgage RIT. Arbor Realty Trust ha ampliato il proprio portafoglio del 17 per cento trainato da forti erogazioni di prestiti per 2,83 miliardi di dollari. Il motore principale erano i prestiti ponti e molti familiari originati per aiutare finanziari nuovi sviluppi o acquisizioni di proprietà. La società ha anche raccolto con successo capitale per finanziare la sua continua crescita inclusa la vendita di azioni a marzo e la chiusura di altri veicoli di finanziamento. Questi ottimi risultati hanno permesso a questo RIT, Arbor Realty Trust, di aumentare il dividendo per l'ottavo trimestre consecutivo. Complessivamente negli ultimi due anni EBR ha aumentato il suo payout del 27 per cento. Questo è un caso eccezionale considerando che molti RIT ipotecari, mortgage RIT, faticano a far crescere costantemente i loro dividendi. Anche in questo caso lo yield al di sopra il 10 per cento e l'azienda ha registrato ricavi per 260 milioni circa di dollari nel trimestre terminato a settembre 2022 superando le stime degli analisti del 4.92 per cento. Ciò si confronta anche con un fatturato di 100 quasi 26 milioni di dollari dell'anno di un anno precedente. La società ha superato le stime dei ricavi di consenso quattro volte negli ultimi quattro trimestri. La sostenibilità dell'immediato movimento del prezzo del titolo sulla base dei numeri recentemente pubblicati e delle aspettative ma questo ha comunque dimostrato la solidità della sua capacità di guidare la crescita dagli utili in un contesto macroeconomico estremamente difficile comunque ha un'unica differenza con le altre che avendo avuto un importante rimbalzo verso l'alto a meno di un altro intracciamento il prezzo non è così conveniente e affrente come lo era fino a qualche mesetto fa seppure le azioni siano comunque in forte calo rispetto alle quotazioni che c'erano a inizio anno. Bene fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste mie considerazioni se questo video è stato il tuo gradimento come sempre ti chiedo per favore di supportarmi veramente con poco lasciando un mio pollice in su fammi crescere qui sulla piattaforma. A te costa un battito di ciglia ma per me significa il mondo se poi sei nuovo sul canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto pubblicato successivamente. Bene anche per oggi è tutto non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci ad un prossimo video ciao a presto a presto